Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Con il video di oggi inauguriamo un mese tutto dedicato alla DC Comics, in attesa dell'uscita del film del Joker il 3 ottobre. Il film è già uscito in anteprima al Festival del Cinema di Venezia e infatti in rete iniziano già a uscire le prime recensioni senza spoiler. Ma non voglio vedere neanche quelle, voglio andare al cinema totalmente ignaro di tutto. Oggi mi limiterò ad analizzare il trailer che abbiamo visto nel video precedente in cui ho fatto una video reaction, quindi ho dato delle impressioni a caldo. Passate queste impressioni a caldo voglio analizzare il trailer punto per punto. Il trailer inizia con Joking Phoenix che interpreta Arthur Fleck, questo è il nome del personaggio del Joker prima che diventi il Joker, che sta facendo delle smorfia a un bambino in metropolitana per tenerli compagnia, ma viene brutalmente sgridato dalla mamma che non vuole che importuni il suo bambino. Ora, sembra anche che dimostri empatia in questa scena. Subito dopo c'è un'altra scena in cui fa una risata tipica del Joker, ma si vede che non è vera, non è reale, smette subito di ridere, si sta anche cambiando, si sta vestendo, quindi è chiaro che sta provando la sua risata, molto probabilmente perché è la risata che userà per esibirsi, quindi è molto probabile che lui già interpreti, si vede che è un comico, poi si vede in alcune scene che è vestito da clown, quindi questa risata è una sua interpretazione. Vediamo sempre che interagisce con la sua psicologa, che gli comunica che quella sarà la sua ultima seduta insieme, e in questa scena Arthur Fleck sembra interagire con la psicologa, con una persona normale, una persona con dei problemi, ma non una persona estranea alla realtà. Subito dopo invece vediamo una scena in cui Arthur Fleck è in ospedale a tenere compagnia a una persona, a una donna, che non è Zazie Beetz, non è l'attrice che incontra dopo nel trailer, è una persona di carnagione bianca con i capelli lunghi biondi, potrebbe essere sua moglie, ispirandosi appunto a The Killing Joke, che aveva una moglie incinta, qui magari potrebbe avere una moglie malata, oppure potrebbe essere, non so, sua madre, in ogni caso è una donna che c'è nella sua vita e che c'è prima dell'incontro con Zazie Beetz, perché Zazie Beetz sembra che la incontri in ascensore subito dopo. Quando gli dice è uno schifo, è riferendosi probabilmente alla vita, Arthur dice che a lui ha soltanto pensieri negativi, quindi molto probabilmente è combattuto tra la sua vita da comico di palcoscenico alla sua vita privata, dove appunto ha da occuparsi di una persona che probabilmente è sul letto di ospedale e sta per morire, quindi c'è questa cosa. In tutto questo, mentre proprio è in ospedale ad accudire questa persona, in tv mostrano un suo numero comico, oppure una sua intervista, dove lui sembra totalmente straniato dalla realtà, oppure sta interpretando un personaggio. E questo video comico viene sfruttato dall'attore che interpreta, dal personaggio che interpreta Robert De Niro, per sbeffeggiarlo. Quindi lui è in ospedale, in questa situazione probabilmente molto angosciante, e viene pure deriso. Vediamo una scena in cui lui è vestito con il vestito bordeaux, rosso scuro, che indossa quando fa il Joker, ma non ha lo stesso gilet, ha un gilet in tinta, quindi è un vestito elegante. E è una scena in esterno, in cui lui guarda dall'alto verso il basso. Credo, credo proprio che quel vestito sia il vestito che indossi al funerale e della persona che era sul letto di morte. Ed è un vestito elegante. Mentre il gilet giallo lo indossa quando è vestito da clown, e fa girare il cartello e viene aggredito dai teppisti. L'unione di questo vestito elegante rosso e del gilet arancione sarà poi il vestito di quello che sarà il Joker, fondamentalmente. Quindi c'è questa unione delle due cose. Se davvero questo vestito l'ha usato a un funerale, potrebbe esserci anche un significato inconscio, un significato profondo per il quale lui indossa quel vestito e come controaltare quel gilet. Nella scena dove ci sono dei manifestanti con il cartello We are all clowns, noi siamo tutti quanti pagliacci, quando ho visto il trailer a caldo pensavo sempre che protestassero verso il personaggio interpretato da Robert De Niro. In realtà sembra che protestino contro Thomas Wayne, il padre di Bruce Wayne, che poi è lo stesso che dà un pugno al Joker mentre il Joker ride in faccia a Thomas Wayne. Quindi è probabile che Thomas Wayne, che è un industriale, non sia proprio una figura limpida in questo film, ma sia magari un industriale che ha fatto qualcosa e la gente stia protestando per questo. Quindi molto probabilmente il movimento del siamo tutti clown è antecedente alla nascita del Joker di Arthur Fleck. Probabilmente Arthur Fleck ne prende ispirazione, vede questa cosa, vede il clown come simbolo di ascesa e ne assume, lo personifica fondamentalmente. Quindi non è lui che trascina le masse, ma probabilmente è lui che si unisce a questo movimento diventandone il simbolo principale. Questo lo possiamo anche dedurre dal fatto che il Joker, Arthur Fleck, che non è ancora il Joker, guarda un taxi che passa, in cui c'è dentro un, presumo un criminale che sta per andare a compiere qualche crimine con una maschera da clown e sorride, come se quella visione lo ispirasse a diventare, ad assumere le fattezze del Joker. Infatti si vede anche una scena dei tafferugli di cui dicevo, dove molta gente con la maschera che dice we are all clowns e sta protestando e anche andando alle mani con i poliziotti. In questa folla c'è Arthur Fleck, non vestito da Joker, che fa una cosa tipo... un timido iniziare a unirsi a questa folla. Quindi per questo dico, non la crea lui, ma ne viene... viene affascinato da questa cosa, ne assume il volto e diventerà poi il volto principale. O magari no, magari semplicemente sarà il volto principale per noi che guardiamo la pellicola. È poco ma sicuro che tra l'inizio in cui Joaquin Phoenix e Arthur Fleck alla fine, quando è il Joker, che c'è un comportamento, un carattere diverso. Infatti lo vediamo camminare con molta disinvoltura nei panni del Joker. Si fuma una sigaretta non curante al rallentatore e butta via la sigaretta. ci fa molto capire com'è diventato sicuro di sé e anche, in un certo senso, pericoloso. Si passa da una persona frustrata che appunto non ho capito bene se è inserita nella società o se ne è già estraniato, se è già fuori, diciamo, come personalità. fino a diventare appunto totalmente folle, totalmente Joker. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ricordo che questo mese cercherò di parlare il più possibile della DC Comics. Sarà un mese totale dedicato alla DC. Quindi parleremo di Flash, di Batman, ovviamente ancora del Joker. Parleremo un po' di tutto. Faremo magari anche i video di unboxing ancora con i giocattoli di Batman e così via. Se siete interessati iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e condividete il video con tutte le persone che conoscete che vi stanno simpatiche o antipatiche. Vi ricordo sempre che se vi interessa iscrivervi a un canale di streaming come Netflix ma volete pagare un pochino meno potete iscrivervi a Together Price e pagare una piccola parte perché condividerete il servizio con altre persone che come voi pagheranno meno. Con questo è tutto io sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.